quindi dopo aver lasciato la nostra destra il blue note in discesa adesso andiamo a fare un giro senza salire però su in cima né a parte che non so se ci puoi mi sembra su qualcuno già il fatto di andare a fare il giro fino la sulla punta c'è qualcosa senza salire in cima perché noi volevamo andare fino a IA quindi sarebbe troppo però se vogliamo evitare possiamo anche evitare quel giro sentire poi prosegue di lì però noi andiamo a fare una deviazione per andare senza salire in cima arriviamo giusto sulla parte davanti e qualcuno ha usato come discarica purtroppo ci sono sempre gli incivili si scende e puoi risalire è lì che bella acqua vista da qua perlomeno e questo guarda che si porta anche il figlio a spalle allora bravissimo arriviamo anche di notte ci sono ma c'è una spiaggetta peccato che non ci si può arrivare guarda come se deve bene io oggi no quello è io quello è Sifinos Sificos Sifvava quello è là in fondo è un gandroso è un gandroso il sforzo è passata signora grazie a destra si va su a sinistra si va il giro che passa sotto che inconventa ormai siamo qua possiamo andare anche su penso visto da qua non sembra che si salga tanto nel senso che magari si è già salito un po' non ti serve di conto ho un po' di ombra qui c'è da saltare adesso torniamo sui nostri passi lì sopra c'è i merovigli salita ecco qua ce la stiamo facendo di salire comunque non è così dura come sembra soffia un po' non ha così tanto c'è ancora qualche gradino siamo quasi in cima più alto che di là comunque un po' di fiatone siamo tornati su adesso andiamo verso Ia usciamo dai merovigli adesso andiamo verso Ia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti